falchi e poiane per allontanare i piccioni che affollano portici e altre zone di chieti creando problemi anche a causa del guano una scelta eco compatibile del comune con formula ambiente grazie falconieri fino a dicembre in azione falchi e poiane soprattutto sotto i portici per allontanare i piccioni e senza alcun danno per questi volatili poiché il solo verso dei rapaci li spaventa e se la danno ad ali levate già da oggi operativi falconieri l'iniziativa presentata in piazza vico dagli assessori zappalorto e raimondi e da nicola della corina di formula ambiente con la hawk service si cerca di contrastare la presenza dei piccioni che sono ormai dappertutto come dire per loro arriva lo spauracchio di questi rapaci che facendo alla voce grossa allontanano i volatili succitati e relativi escrementi che costituiscono anche un pericolo per la salute dei cittadini sì questa mattina presenteremo questa iniziativa messa in campo insieme a formula ambiente promossa da loro che è quella della falconeria che come avrete già sentito in altri luoghi d'italia anche negli aeroporti è già stata utilizzata per provare ad allontanare i piccioni e il falco o la poiana sono animali predatori quindi in qualche modo c'è un controllo del territorio e nei prossimi giorni ci saranno più giri di questo falco ed è uno strumento che noi abbiamo immaginato appunto insieme alla ditta appaltatrice dell'igiene urbana per come dire combattere questo problema annoso dei piccioni e del guano che sappiamo che oltre a essere profondamente corrosivo sporca tantissimo la città è anche pericoloso da un punto di vista sanitario. Allora noi come metodo di contrasto a questo fenomeno delle deiezioni animali che purtroppo affliggono i centri storici non solo di Chiedi ma di tutte le città storiche abbiamo pensato di utilizzare di provare in via sperimentale l'utilizzo di rapaci che sono nemici naturali dei colombi per vedere di allontanarli dai centri storici in modo che riusciamo a diminuire il fenomeno delle deiezioni. E' ecocompatibile perché noi non è che uccidiamo gli animali ma semplicemente li spaventiamo e li allontaniamo così che questi vanno a nidificare altrove. I rapaci che saranno utilizzati sono falchi e poiane e il cui verso terrorizza i volatili i piccioni e quindi loro naturalmente sono invitati ad andarsene, scappano insomma.